Buongiorno ragazzi, sono le otto ma è già da più di un'ora che le bimbe si sono svegliate andiamo a salutarle e prepariamo loro una super colazione per questa morning routine Buongiorno bimbe, ben sveglie, buongiorno Giulie, dormito bene? Sì, io ho dormito nei lettini Quale lettino? Con loro Con loro? Sì La spondina l'hai messa o no? Sì Brava, hai dormito bene? Vi siete svegliate prestissimo stamattina e non è da voi quindi vorrà dire che stasera andrete a dormire molto presto, bravi Adesso vi preparo che cosa ragazzi? Le crepes Le crepes, come vi avevo promesso per questa super morning routine Allora, vuoi mettere gli estate in tavola? Vuoi iniziare ad apparecchiare mentre io preparo le crepes? Io metto i tovaglioli Brava Ma come ti tovaglioli? No No, vieni giù, metti le pochette Io non voglio Va bene Va bene Allora, Giulia Nella lavastoviglie ci sono le posate pulite In basso Bravissima Hai detto che ne hai presi due Dito, ma Giulia Tendi le pochette Ma sia Coltello Coltello Aglio Dai Com'è che si dice sì? Come? Ma qui c'è una bimba che sta già mangiando La mettiamo una fascia nei capelli, Anastasia? Così magari mangiamo più tranquille Ti faccio una coda? Ma quanta fame hai? Arrivano, ne è pronta un'altra Adesso faccio l'ultima e mangiata, ok? Giulia Grazie Prego Buona colazione Un minuto Amore E arriva anche a te Eh? L'ultima sarà la più buona Ma Dimmi amore La voglio un altro No Tanto non la mangeresti Infine Ma non per importanza La crepe di Vanessa Non vedo l'ora di dare lì Comincia a gustarti la crepe Per poi pensare di mangiare il McDonald Non dirla perché ce l'ho con il McDonald Ma come? Ma non gli piace Ti piace la mia crepe? È buona? No Purtroppo non ho finito lo zucchero a velo Ma non cambia niente Perché lo zucchero a velo La addolcisce e basta E la decora Mani Hai finito tutto Ma adesso è un pollo Vanessa l'aveva presa per ultima La crepe Non poteva finire per prima Poi bisogna mangiare con calma Bravo Brave tutte La mia crepe allora è stata buona Anche questa volta Ma senti Non raccogli la nutella nel piatto Ah mi pareva strano Mi pareva molto ma molto strano Vediamo un po' come si fa Così? Si sorrita No non ti va more non mangiarla Brava Ok perfetto Adesso faccio colazione io E poi andiamo a lavarci i denti Si Adesso toppa E ci vestiamo Ok ragazzi Le bimbe hanno fatto colazione Adesso tocca a me Mangiare la mia crepe super proteica Con mirtilli More E sciroppo d'acero Ci vediamo dopo E continuiamo la nostra morning routine Permesso Ma allora Siamo ancora qui? Si Allora quando volete Vi levate i denti Vi preparate Che poi andiamo al McDonald's Sì Quando sarà ora A nostro Al Burger King Hai ragione Sì Va bene? Sì E poi veniamo Cosa state giocando? A questo A voi guys Io ho messo Praticamente siamo sorelle Guardate Chi esce? Ragazzi venite Guardate quante escono E mi piace un sacco Questa Questa E io mamma Prima ho vinto due corone Veramente Sei diventata la regina Io ho cinque corone in tutto Però io ho Vale quanti sono le mie? Sette Quante vale? No sette E io ho poche E ho poche E ho poche E ho poche E ho 1100 coppie Recupererai E ho 1100 coppie Guardate i miei personaggi Poi qui Guarda la strega Vediamo Ma che carine Lei È che già fuori questo? Giulia ha vinto appena questo Giulia Veramente amore mio Perché ha vinto messo un angelo Mamma ti piace questo? Lo so ancora Il leone Guardate Guardate ragazzi io Non ha una faccia questo Guardate ragazzi io ho fatto tutti questi Questo sembra Spiderman Guardate io ho fatto tutti questi E adesso devo fare questi Guardate E questo qui che balla Che a Vanessa ha mandato Ok E anche qualche pugno Va bene Va bene Continuate a giocare Che io vado a prepararmi Poi quando siete pronte Andiamo Va bene? È ancora prestino Per andare a mangiare Ti credo sono le 10 Esatto infatti Mi piace Va bene Abbiamo due uguali Ah sì Siete identici Sì è vero Abbiamo tipo questo vero Fai vedere Io ho il pinguino uguale a lei Invece guarda Sì Abbiamo tipo questo E questi personaggi si guadagnano nel tempo? No io perché tu mi hai compratto quella casa lì Ah hai più personaggi Sì Sì Dammi il pinguino Va bene Noi aspetta Noi abbiamo il pinguino uguale Dai fa vedere Un pinguino Due pinguine E poi vedo Lei sul computer ha questo Vedo il quetto Sì Sulle table Ah Ok bimbe Io vado a prepararmi Va bene Va bene Che succede? Anni ma tu ti sei già cambiata? Sì Ok Allora Devi scegliermi Allora Adesso Giulia sceglierà l'outfit di Vanessa di questa mattina Allora E' tua? Questo è il suo armadio Sì sì E' l'armadio di Vanessa Questa? Come Anastasia? Sì Stesso colore di Anni Con un pinguino morbido Ti sei già lavato i dentini? No Va bene Sì Ma con questi Ok Hai scelto quindi Pantaloni di jeans rosa E la maglia azzurra come Anastasia Perfetto Andiamo a lavarci i denti? Sì Così poi vi cambiate E fammi vedere un attimino Come sei elegante questa mattina Amore Come sei elegante Per andare al Burger King Direi che sei perfetta Guarda che presto per andare al Burger King Puoi anche abbandonare un attimo la borsa Andiamo anche tu Tu col pigiama e la borsa Anche di Smarties Allora Vanessa Con questa borsa e il pigiama Stai benissimo Però Puoi uscire anche così Guarda Ecco secondo me Con Tom e Jerry Andiamo a lavarvi i denti Mamma guarda Facci una magia Ci credi? Sì Vediamo Guarda Guarda Ah però Guarda anche le scarpe Ma sei perfetta A lunedì mattina ti voglio così Quindi la porta la riapri già pronta Va bene? Ok andiamo a lavarci i denti Bravissime bimbe Tutti lavi i denti con la brossetta Merendina con la pesca In attesa di andare a mangiare Eh avevate fame? Sì Ma questo gioco deve essere stupendo Perché è da 24 ore che ci giocate È così bello? Sì Babi Ah è scaricato Si chiama Stumble Guys Stumble Guys Va bene Bimbe si va a mangiare Sì Che fame che mi è venuta anche a me adesso Andiamo? Cominciate a salire in macchina Ragazzi si chiama Nanna al Burger King E sono contentissima E non vedo l'ora perché ho famissima Dietro chi abbiamo? Giulia e Anastasia Ciao Avete fame? Sì moltissima Ok Siete felici di andare al Burger King? Sì Mi sono capito perché lei ha dato moltissimi Io ho detto tantissime Siamo arrivate Andiamo Ciao Jenny Bentornata Hai fame? Molta Anch'io Anch'io Bene Allora Ani tu cosa prendi? L'Happy Meal? Quello che è Happy Meal? Ma l'Happy Meal Ci pensi tu? Lo yogurt Sì lo yogurt dopo Come drink in più Ok? Sei capace Vane? Quando vi chiamo venite a mangiare Ok? Fate attenzione ad Anastasia Non toglietele mai gli occhi di dosso Grazie Buon appetito È arrivata la pappa Poi qua ci sono dei colori E degli album forse da disegno Di chi è il toast? È tuo? Allora cosa avete ordinato? Tu hai ordinato il toast I nuggets Le patatine Anastasia il toast Anche lei I nuggets I patatine Come Vanessa E tu invece Giulia Il panino Con le patatine I nuggets Anche te Adesso ti metto un po' d'acqua Buon appetito Momento disegno Ma cos'è che ci hanno regalato Qui al Burger King? Un bel foglio Con un disegno da colorare Vediamo Jenny Cosa sta facendo Wow bravissima Guardate com'è brava Jennifer a disegnare Sei veramente brava Siete tutti degli artisti In questa famiglia Lei è la mamma di Jennifer E di Giulia Ciao E fa delle torte bellissime Grazie Prego Allora amore Voi due siete in pausa? Relax Avete mangiato bene? Ti sei divertita in questa giornata con noi Per 24 ore Giulia? Eh? Bene Mi fa piacere Avete dormito poco Ma fa niente Stasera si va a dormire presto Che bello Guardate ragazzi Vediamo Fammi vedere Guarda mamma Non la so fare Mamma la faccio Ci sono? Ci sono? Credevo che facessi la verticata Eh dai con questa musica di sottofondo Con la giravolta Con la giravolta Brava Stasia che quest'anno inizia la scuola Che quest'anno inizi la scuola Jenny saluto anche te Ciao Ciao Buon inizio di scuola anche a te E anche a te Dani Ciao Un buon inizio di scuola Ti amo Sarò contentissima che tornino a scuola Infatti Poi magari io e te ci vediamo Va bene? Sì sicuramente Non più le giornate Sicuramente sì Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Ciao 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 Ciao